Perfetto vergogna La mafia siete voi E' il titi che è mafioso Ipocriti 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 Buzzi era un dilettante Loro sono i professionisti di questo meccanismo C'era Berlusconi con tutte le fotografie non vi siete indegnati Ora si faranno altri vent'anni perché se quella foto non vi indegna devi solo vergognarti quella foto vi devi indegnare bisogna capire questo che i cittadini devono cominciare a indegnarsi Questo partito che adesso ha più inquisiti di forza Italia questo partito nelle periferie dove c'è gente normale non ci viene con questi Ipocriti Andassero a casa devono andare a casa e Marino è il primo Marino è il primo una giunta inquisita vergogna dove stavate quel giorno quel giorno qua quel giorno lo sai quel giorno dove stavate quel giorno che c'era tutto sto casino dove stavate tutta questa gente qua perché sta qua dove stavate voi come istituzioni quel giorno che sono venuti tutti qua dove stavano tutti questi indossavano mafia capitale è un sistema un sistema molto duro e consolidato e non basterà il processo di novembre per scalfirlo è solo pubblico è solo pubblico ma non si può contestare non si può contestare quello di Casamoni è rimasto due giorni mafiosi mafiosi fermi 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 ferm mafiosi, 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 mafiosi vergogna difendete i mafiosi a fine mese lo deve pagare da loro che cazzo difendete la mafia? ci volevo sollevare l'officione, ci volevo sollevare per far vedere le modi spettacolo Pitti, perché non ne ha Pitti, perché non ne ha Pitti, perché non ne ha e se io voglio da partigiano oh bella ciao, bella ciao, bella ciao Pitti, perché non ne ha se io voglio da partigiano tu mi te viste per me Grazie 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 Grazie